La pandemia ci ha fermato. Ci ha tolto il nostro palco. Il nostro lavoro. La nostra passione. Il nostro amore. Abbiamo aspettato. E abbiamo approfittato. Guardando dentro noi stessi. Per sognare nuove strade. Stiamo tornando. Per abbracciare il nostro pubblico. Toccando l'anima delle persone. Per realizzare i vostri sogni. Perché la tua passione. È la nostra missione. Alza il volume. La musica sta tornando. Per realizzare i vostri contene. Come se Tripleis. La mia vita sta tornando. Per realizzare i vostri. Per realizzare i vostri. еловir.